Un incendio distrutto intorno alle 2 della scorsa notte, l'auto di Generoso Rignanese, assessore comunale a Monte Sant'Angelo, con deleghe al bilancio e alle attività produttive ed esponente del Partito Democratico. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto del consigliere provinciale, una BMW X3, era parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'uomo ed è stata avvolta dalle fiamme, che l'hanno completamente distrutta, da accertare ancora la natura dell'episodio. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e bonificato l'aria, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso, verificando anche la presenza di telecamere in zona. In passato Rignanese era stato vittima di atti intimidatori. Nel 2019, infatti, venne ritrovata una busta contenente un teschio umano e pesanti minacce di morte rivolte a lui e al sindaco Pierpaolo D'Arienzo nella sede comunale di Macchia, frazione di Monte Sant'Angelo.